A questo punto vediamo un ultimo approccio. Ricordatevi che negli algoritmi pseudopodinomiali abbiamo rinunciato alla generalità, perché non possiamo risolvere tutti i tipi di problemi con questi. Negli algoritmi di approssimazione abbiamo rinunciato all'ottimalità, nel senso che sappiamo che il risultato è entro un certo limite, ma non è quello ottimo. Negli algoritmi euristici abbiamo rinunciato a parecchie cose, perché in realtà sono soluzioni che nella pratica funzionano, ma in teoria non funzionano. Gli algoritmi branch and bound sono un'evoluzione degli algoritmi di enumerazione stile backtrack e come tali, se applicati a problemi di dimensioni decenti, riescono a trovare la soluzione ottima. Ma la realtà è che non è detto che la dimensione sia tale che questo tipo di soluzioni possano essere applicate. Quindi, l'idea è di nuovo quella di potare una soluzione, cioè di potare un albero di ricerca, ma di potarlo in maniera molto aggressiva, cercando di evitare sequenze che si stima non possano portare alla soluzione ottima. Poi ci sono innumerevoli varianti in cui questa stima può essere tale che magari non arriverà mai alla soluzione ottima, ma almeno riduce abbastanza lo spazio di esplorazione da trovare soluzioni molto molto buone. Esempio, scacchi. Alcuni degli algoritmi per gli scacchi sono basati su questa tecnica, esplorano lo spazio delle mosse, ma lo spazio delle mosse è enorme, perché a ogni mossa hai, a ogni situazione della scacchiera hai una pentina di mosse che puoi fare, e quindi l'idea è che a ogni passo l'albero si allarga di 20 possibilità e quindi è esponenziale e rapidamente raggiunge livelli troppo grandi, ma abbiamo degli algoritmi che ci dicono, guarda, sacrificare la regina senza guadagnare nulla non è una buona idea, è inutile andare avanti lungo questa strada, anche se magari c'è uno strano meccanismo per cui sacrificando la regina riesci comunque a vincere, lui non l'esplora perché la probabilità di trovarlo lì è troppo bassa. Invece qui, adesso vedremo delle soluzioni che esplorano tutto l'albero e riescono a ottenere il risultato generale. Allora, dobbiamo parlare delle assunzioni. Qui dico senza perdere troppa generalità, più o meno, qui parlo di problemi di minimizzazione e a un certo punto parlerò di lower bound, quindi estremi limiti inferiori, se lo volete fare di massimizzazione dovete usare upper bound e quindi invertire tutto il senso delle relazioni. Quindi questo è solo per chiarirci quello che succederà dopo, in realtà va bene anche per massimizzazione. Però se fate minimizzazione, ogni sequenza di scelte deve avere costo non negativo, cioè non è che facendo una scelta ci guadagnate, riducete il costo, quello sì, ma non potete guadagnarci. E questo significa che ogni scelta aggiunta alle scelte già effettuate non fa diminuire il costo della soluzione parziale così ottenuta. Queste due sono in realtà la stessa, se non vengono rispettate, quello che dico dopo non può funzionare. Allora, backtrack, minimax si dovrebbe chiamare mi pare, sì esatto, questo è un commento di Mattia sul discorso degli scacchi, giusto? Backtrack, allora abbiamo visto questo come schema generale ed era già abbastanza complicato così, anche perché poi nella realtà non usiamo tutti questi dettagli sempre. Quindi vi ricordo, se la soluzione è ammissibile, quindi risolve il problema, la processo e ritorno true, che significa ho trovato una soluzione. Altrimenti, se non è ammissibile e la voglio rigettare, perché? Perché da lì in poi è impossibile trovare soluzioni, restituisco false e mi blocco. Altrimenti, quindi, se non ho deciso che questa è una soluzione, se ho deciso che comunque mi può portare delle risultati, vado avanti e quindi provo a vedere se trovo una soluzione fra le possibili scelte. E questo è il backtrack che abbiamo visto. Durante l'operazione di branch and bound, manteniamo due informazioni che appunto nella massimizzazione andrebbero invertite, ma noi la vediamo così, uno è un upper bound e funziona in questo modo. Volete mantenere informazioni sulla miglior soluzione ammissibile che avete trovato finora, min sol, min solution, e il suo costo, min cost, costo minimo. Min cost costituisce un limite superiore per il costo della soluzione minima. Cosa significa? Supponiamo che io vi abbia trovato un cammino su PSP che costa 25. E vi dico, quanto costa la soluzione minima? Non lo so, ma meno di 25. 25 o meno. Quindi la miglior soluzione che avete trovato a un certo punto è un upper bound al minimo che potete trovare. E questo è abbastanza ovvio. Il lower bound è un discorso un pochino più sofisticato. E funziona in questo modo. Supponete di avere una magica funzione lower bound che preso l'insieme di soluzioni già scelte, i dati del problema, il prossimo passo da fare, utilizzando informazioni sulla sequenza di scelte, garantisca che tutte le soluzioni ammissibili, generabili, facendo nuove scelte, abbia costo maggiore di questo lower bound. Cosa significa? Significa che io sto, a un certo punto ho scoperto che la soluzione migliore che ho trovato è 25. Quindi ho un upper bound uguale a 25. Supponiamo che, mentre sto esplorando l'albero, da un'altra parte, io trovi una soluzione, che non è quella min sole, è una soluzione, con costo uguale 18. Va bene. Se io avessi trovato una soluzione con costo uguale 27, potrei già fermarmi qui, perché tanto non riuscirò a migliorare quel 25. Perché? Perché abbiamo assunto che ogni scelta, aggiunta alle scelte già effettuate, non faccia diminuire il costo. A questo punto, cosa me ne faccio di questi dati? Supponiamo che io, a partire da questa soluzione parziale, possa capire, in qualche modo magico, che adesso andiamo magico, in qualche modo matematico, strano perché non l'abbiamo mai affrontato così, io possa capire che la soluzione migliore che trovo, a partire da questa soluzione parziale, è 27. O più. Maggiore o uguale 27. Cioè l'overbound è uguale a 27. Mi conviene andare avanti nella visita dell'albero? No, perché vedo almeno una testa che si scuote, perché io so che qualunque soluzione io possa trovare costerà 27 o più, ma io ho già trovato una soluzione pari a 25. E quindi mi fermo. Allora, notate la differenza tra backtracking e branch and bound, che è una parte di backtracking, niente di particolare. Però, mentre prima, se ottenevo una soluzione con costo uguale 27, mi bloccavo, che è quello che abbiamo visto negli esempi che abbiamo fatto quando facevamo potatura. Se trovo un sieme troppo grande, smetto, perché io sto cercando un insieme di una certa dimensione. Se foro una somma di valori, smetto, perché io sto cercando quel tipo di valore. Ma qui, invece, noi cerchiamo di stimare tutte le possibili soluzioni che si possono ottenere a partire dalla soluzione parziale che abbiamo ottenuto. E questo è molto particolare, perché devo scriverla, una funzione di lower bound, così. Ok? E adesso vi faccio vedere come si fa. Sono domande anche da fuori, fin qua. Per ora è tutto molto generico, e capisco che sia difficile per voi, ma proviamo a capire. Allora, l'idea è questa. Io faccio la scelta 1, poi faccio la scelta 2, poi diciamo che a un certo punto arrivo qua e trovo, come abbiamo detto, una soluzione di costo uguale 25. Poi vado avanti nell'esplorazione dell'albero, io lo devo esplorare tutto. A un certo punto sono qua e faccio la scelta 3. Ok? E questo, quando mi calcolo il lower bound qui, e quindi posso dire che sarà sempre uguale, maggiore uguale di 27. Qualunque sia il risultato. Sarà almeno 27. Quindi io tutto questo lo poto e non lo considero nemmeno. Quindi, faccio backtrack e inizio ad andare di qua. Però ho sempre questo costo uguale 25 in mente. Se, dopo aver fatto un paio di scelte, magari qua c'è 12, qua c'è 13, basta. L'unica cosa che posso fare è ottenere di nuovo 25. Ma siccome questi sono tutti positivi, otterrò più di 25. Quindi, mi fermo e poto via anche questo. Vedete che se ho questi meccanismi, io riesco a votare gran parte dell'albero. E però come faccio a saperlo? Quanto? Di nuovo, sperimentalmente. Dipenderà dai dati che abbiamo. Perché non è un algoritmo di approssimazione, è un algoritmo che cerca di ridurre il più possibile l'insieme di la parte dell'albero che andiamo a esplorare. Allora, qui c'è una considerazione da fare. comunque vada l'algoritmo è superpelemoniale. Perché io magari non riesco a trovare una funzione lower bound abbastanza buona da potare abbastanza. Quindi in realtà l'albero me lo guardo tutto. Però nella pratica questo abbassa drasticamente il tempo di esecuzione. E tutto dipende dalla funzione lower bound che dovete scrivere voi. e che deve essere in qualche modo ragionevole. Allora, adesso vi faccio degli esempi. Ma, se no, proviamo a fare un esempio prima di arrivare a questo. Dopo vi faccio vedere un esempio fatto un pochino meglio. Allora, supponete che nel vostra visita avete raggiunto il nodo 1, il nodo 3, il nodo 5, il nodo 7. Vabbè, l'ho messo di risparire ma è lo stesso. Ok? Queste sono scelte che avete già fatto. Ognuna di queste scelte ha un costo 3, 5, 9. Quindi avete speso 14, 13, 17. Il costo parziale attualmente è 17. Vi mancano da visitare i nodi 2, 4, 6, 8. Il grafo è completo, quindi ogni nodo è connesso con ogni altro nodo. Ora, io devo stimare quanto mi costerà uscire da, cioè completare il circuito. Come faccio? Beh, ho tutti i dati a disposizione. Ricordatevi che ho la matrice con tutti i costi. Io sono arrivato a fare 1, 3, 5, 7. Ok? La domanda che vi pongo è quanto mi costerà almeno uscire da 7? Vediamo se mi aiutate anche voi fuori. Cioè, 7 qui, ci sarà la riga di 7, deve andare avanti nel percorso. Non deve andare in 1, non deve andare in 3 e non deve andare in 5, perché sono già stati visitati. Deve andare in 2, 4, 6, 8. Quale? Non lo so. Ma posso fare una stima del costo del lower bound per uscire dal percorso che ho già fissato? Allora, si può fare una media dei costi, ma quella non sarebbe una stima inferiore, sarebbe una stima media. Io otterrei informazioni su quello che potrebbe essere il costo medio, ma non ottengo informazioni su quello che è il costo minimo, il lower bound, oltre il quale non vado. il minimo a quelli con cui connesso, siccome ho un grafo completo, è connesso con tutti, ma lì devo andare a pescare qua. Sì, sì, quindi prende il min per n che è uguale a 2, 4, 6, 8 e che è uno di questi. E così sono riuscito virtualmente, fatemelo fare in blu, a estendere questo. Non so quanto, quale sarà il nodo qua, potrebbe essere il 2, potrebbe essere il 4, eccetera, eccetera, però ho una stima e questa stima magari mi dice che il costo qui sarà 5, ok? Gli altri archi costano di più, 1,6, 1,12, 1,4, no, scusate, 1,14, eccetera, ma c'è un 5, quindi almeno 5 lo pago, ok? Adesso sono in un nodo che non è fra quelli da cui dove uscire, cioè il 7, ok? Quanto mi costerà uscire da quel nodo? Cioè andare al prossimo passo, sempre il minimo tra tutti quelli che non devo visitare, il 2, 4, 6, 8. Poi, a un certo punto, quindi considero tutti questi minimi, poi a un certo punto devo, quindi vado avanti così, e poi devo ritornare qua. Quanto mi costa tra tutti i nodi possibili, guardo i pesi degli archi che vanno verso il nodo 1, perché 1 è la mia scelta iniziale. Ok? Allora, se io prendo tutti questi valori, ha ragione di più il vostro collega, io forse vorrei sapere qual è il costo medio per capire più o meno come andrà, però io non mi sto ponendo quella domanda, mi sto ponendo una domanda del tipo qual è il costo minimo e mi sono messo sempre nella condizione migliore. Ok? E per fare questo ho sempre scelto il valore minimo e quindi sommando tutti questi minimi dopo delle slide fatte meglio con un metodo un pochino più sofisticato, però sommando tutti questi minimi ottengo il valore che in qualche modo meno di quello non posso pagare, siete d'accordo? Perché comunque da ognuno degli archi dovrò uscire, comunque dal nodo 7 dovrò uscire, comunque dal nodo 1 dovrò entrare, nel nodo 1 dovrò entrare. Ok? Quindi quello lo devo pagare e a questo punto io posso farmi la somma e scoprire che tutto questo somma magari a 10 ok? E quindi ottengo 27 ma noi avevamo detto che il costo minimo era 25 quindi basta io sto senza fare il percorso, senza fare tutti i possibili percorsi io so che andando avanti di questo passo mi troverò bloccato, mi troverò con un costo superiore. Faccio un backtrack e torno indietro. Ok? Quindi questo è più o meno l'algoritmo la parte dalla scelta dall'insieme delle scelte in poi poi c'è bisogno di tutto il resto ok? Ma non ci sta nella slide. Seleziono le scelte possibili ma questo è solito poi provo ognuno delle scelte le registro man mano questo è solito e poi ho questa funzione lb la funzione lb è la chiave di volta di questo metodo la dovete fare voi e deve essere la migliore possibile e dopo vi faccio vedere un leggero miglioramento rispetto a quello che vi ho appena detto ok? se lb è minore di min cost dove min cost è la migliore soluzione che ho trovato finora io sono soddisfatto e vado avanti a questo punto guardo se devo andare effettivamente avanti quindi fare ulteriore branch and bound con i più uno oppure se devo ho trovato una nuova soluzione vado a vedere il costo di questa soluzione se è minore del costo aggiorno le variabili che per comodità qui sono variabili globali ok? quindi la logica è abbastanza semplice fai un passo ti porta a una soluzione troppo costosa else smetti perché non andiamo avanti qua ok? se questo è maggiore uguale del min costo è inutile andare avanti cioè lb è maggiore uguale di min costo ok adesso vi faccio vedere un nel libro non è spiegato così vi faccio vedere un ulteriore aggiustamento vediamo se in qualche modo ci capiamo però qui diciamo lo faccio in maniera formale allora abbiamo il numero di città abbiamo dhk che è la distanza fra due città perché ricordatevi è un grafo completo è una matrice di distanze e quindi d è la mia matrice di distanza punto al passo iesimo abbiamo fatto le scelte 1 fino a i dobbiamo fare la prossima mossa quindi un percorso ammissibile che espande s1i attraversa le città s1i e questo è ovvio passa da si a una qualunque delle rimanenti n-i città il 2468 che avevamo visto prima attraversa queste ultime città in ordine qualsiasi da una di queste ritorna all's1 ragionamento lo stesso qual è la differenza è che ho separato le varie parti allora il costo della distanza percorsa minore finora è il costo degli archi attraversati e qui è espresso in maniera ricorsiva ma non è altro che la somma dei costi degli archi che trovate quindi dall'arco che va da i-1 a i andate a vedere qual è il costo nella matrice d qua mi sa che manca una parentesi quadra ok poi ricalcolate un lower bound dalla distanza per uscire da si e come è fatto lo chiamo out è il minimo delle distanze che vanno da sdi a un qualunque nodo h non appartenente alle soluzioni già scelte il 2468 di prima questo è il back nel senso ritornare indietro in cui ho dh s1 l'aggancio verso la città e poi ho questa cosa che è diversa da quello che vi ho detto prima ho in qualche modo calcolato il costo di trasferimento attraverso un nodo cosa significa che io arrivo su un nodo in qualche modo ho varie possibilità e devo scegliere dove uscire ok il problema è che la stima che avevo fatto prima noi misuravamo solo il costo di uccita ok quindi fra tutti gli archi uscenti selezionavamo sempre quello migliore però la realtà dei fatti è che se voi passate attraverso un nodo dovreste fare anche una stima degli archi entranti perché se diciamo qui abbiamo questo nodo qua che mi porta qua con 15 questo con 14 questo con di nuovo 15 sono tre nodi possibili qua poi ho 7 8 9 nella stima che avevamo fatto prima il costo di uscita lower bound era uguale a 7 perché uscivo con 7 ok ma se io qua ho 2 io come lower bound seleziono 2 qua perché è più basso ok però questo fa sì che la mia stima non tenga conto del fatto che per passare da questa città devo pagare tanto perché tutti i costi sono alti ok 15 14 15 quindi invece di considerare solo l'uscita considero l'ingresso e l'uscita ok e questo mi porta alla formula che abbiamo visto qua in cui sostanzialmente dico io voglio in qualche modo trasferirmi passare attraverso h cosa cosa faccio considero un nodo p da cui arrivo considero un nodo q verso cui vado e prendo il minimo di questa somma quindi se prendo l'esempio che ho disegnato qua il minimo sarà 7 più 14 21 perché l'ho considerato in questo modo ok ora a questo punto quello che faccio è sommo il costo per arrivare al nodo iesimo perché quello è fisso non ci si scappa non è un lower bound è il costo e poi questo è il costo per uscire questa è la somma dei costi per attraversare perché ogni nodo che manca dovrà essere attraversato e questo è il nodo per tornare il tutto diviso 2 perché vediamo se intuite perché divido per 2 ottimo perché ogni nodo considero l'arco in ingresso e l'arco in uscita però l'arco in ingresso è l'arco di uscita di un altro nodo oppure l'out e l'arco in ingresso potrebbe essere il back ok quindi l'idea generale è che sto considerando ogni nodo ogni diciamo passaggio due volte per cui divido per 2 limite superiore ma questi sono diciamo dettagli qual è il punto perché non ho usato il metodo che vi ho detto prima non aveva questo problema qui il punto io qui è che vorrei un lower bound in più alto possibile perché se io dico guarda che la mia stima del costo è molto alta se questa stima è alta e min cost è già molto basso io poterò quindi più il lower bound è alto meno albero andrò a spiorare quindi rispetto alla prima versione che avevo fatto diciamo sulla carta sul tablet quello è una stima questa è un'altra stima questa tende a essere un pochino più alta ma è comunque corretta perché comunque io devo pagare quei costi ok quindi ho ottenuto l'idea è questa vediamo se riesco a farvelo graficamente l'idea è che io questo è 25 io oltre a questo ormai non posso andare ok il costo da cui parto per una soluzione è 17 mi trovo qua ok poi però facendo una stima arrivo che ne so a 23 la mia prima stima che ho fatto vedere benissimo però 23 è sotto 25 quindi devo andare avanti farò le varie scelte e man mano cambierò la stima però posso fare un'altra stima e arrivare a 28 se la stima è fatta bene però perché sennò potrei anche stimare e dirvi il costo è un miliardo ma non è vero i dati non permettono la stima deve essere fatta secondo i criteri di correttezza insomma quindi mi dice che la cosa 28 basta questa qua non la devo più esplorare ok quindi più mi riesco ad andare in alto nelle stime fino a magari superare meno albero andrò a visitare e questo è il modo con cui si lavora con branch and bound quindi in questo caso lo spazio di ricerca ricerca nel senso ricerca scientifica non è più l'algoritmo ma il meccanismo di stima di lower bound per esempio per farvi una cosa che abbiamo visto all'inizio il gioco del 15 ci sono almeno una decina di modi diversi per stimare quante mosse serviranno per completare il gioco del 15 si usa branch and bound e si cerca di diciamo limitare lo spazio di soluzioni che sto guardando cercando la stima più stretta possibile quindi adesso ovviamente diventa abbastanza un casino qua a vedere tutto ma se vi ricordate quando facciamo le permutazioni copiamo l'insieme di destinazioni possibili in modo da avere poi un for each su un insieme di scelte perché lo copiamo perché man mano io modifico l'insieme quindi un iteratore su un insieme che continua a modificarsi non ha molto senso faccio si uguale a c ho fatto la prossima scelta rimuovo dall'insieme perché poi lo passerò qua lo reinserisco dopo dopo che ho eseguito e quindi se i è minore di n vuol dire che non sono ancora arrivato in fondo e quindi quello che succede è che mi calcolo la mia stima e mi ottengo la mia stima superiore ok se la mia stima è minore del costo che ho trovato faccio la chiamata ricorsiva aggiungendo al costo l'arco che ho appena scelto da SI meno 1 a SI altrimenti altrimenti gli aggiungo l'arco e faccio e vedo se in qualche modo ho trovato no ok qua probabilmente è proprio ragionevole fare costo uguale si funziona lo stesso però non ha molto senso come logica costo uguale se costo è minore in costo lo aggiorno ok in questo modo evito vado a modificare la variabile globale quando ho trovato un algoritmo migliore proviamolo e vediamo cosa succede perché per ora non abbiamo ancora visto un esempio è ovviamente impossibile visualizzarlo bene quindi cercherò di farvi capire cosa succede il punto è il seguente da cosa parto da un percorso perché ho bisogno di un percorso perché potrei anche usare min costo uguale a zero ma se ho visto un sacco di algoritmi che mi trovano dei buoni risultati perché non partire da un min cost già più alto in modo tale che poterò subito un gran parte dell'albero quindi scusate l'avviso zero ovviamente era più infinito perché sto andando verso il minimo quindi quello che faccio è scelgo una permutazione come con uno degli algoritmi visti finora e ottengo ventuno ok ed è questa a questo punto quello che succede è questo adesso cerchiamo di capirci sopra in queste nodi c'è l'upper bound sotto c'è l'lower bound allora cosa significa in questo caso significa che partendo da una soluzione già nota che costa 21 io so che il costo minimo è 21 o meno quindi questo è l'upper bound oltre 21 non devo andare perché se no non vale la pena mi calcolo il lower bound ora questi valori siano realistici non lo so però diciamo che a un certo punto mi calcolo il lower bound 18 quindi significa che la soluzione costa meno 18 la migliore che conosco costa 21 posso andare avanti faccio questa scelta cosa succede che la mia stima non cambia come è possibile semplicemente perché la stima di prima era accurata effettivamente mi dici ho fatto la scelta che mi costa poco e quindi resto a 18 va bene è minore di 21 quindi devo andare avanti cosa faccio faccio questa scelta qua però a questo punto arrivo a 21 come valore minimo come lower bound come facendo il calcolo è venuto fuori 21 ma io ho già una soluzione da 21 è inutile che vado a vedere cosa c'è qua lo poto infatti vedete che qua l'albero non c'era e vado avanti ovviamente è già abbastanza un casino fare un disegno del genere questo avrebbe senso se ci fossero 100 città infatti il punto la potatura è estrema ok qua alla fine abbiamo risparmiato pochi nodi ma avete capito cosa intendo qua a questo punto faccio backtrack vado di qua e torno di qua ma ho trovato addirittura un 22 vado a retro addirittura di più vado di qua c'è un 18 la stima la stima in realtà prosegue di qua va bene poi trovo un 21 un 21 e poto l'albero che ci sono qua sotto ok e a questo punto con un po' di potature ho visitato tutta questa parte dell'albero vado avanti cioè faccio backtrack e torno di qua 18 19 25 pessimo probabilmente ho preso quell'arco che pesava 8 ed è stata una pessima scelta ok quindi qua poto poi vado avanti di qua e arrivo a 19 ho effettivamente trovato un percorso che costa 19 mi incosto uguale 19 questo mi aggiorna l'upper bound che però è una variabile globale quindi da qui in poi vedete che qui era 21 21 21 da qui in poi è 19 19 19 ok perché è una variabile globale questo invece è lower bound ma non è un lower bound è la stima esatta sono arrivato in fondo ho fatto tutte le scelte possibili costa 19 basta ok quindi vado avanti a questo punto il mio lower bound si è abbassato qui ho 19 contro 21 non vado avanti 19 contro 21 non vado avanti se non avessi trovato questa soluzione qua ci sarebbe stato 19 contro 20 e non 21 scusate ci sarebbe stato 21 contro 20 e non come adesso 19 contro 20 e quindi sarei andato avanti ma qui grazie a questa soluzione che ho trovato qua questa è potabile e avanti così vedete qua non arrivo mai in fondo quindi in realtà non ho potato quanto vorrei perché è un esempio del cavolo è troppo piccolo ma nella realtà poi poti parecchio e quindi anche se è esponenziale no esponenziale fattoriale il numero di nodi cioè il numero di percorsi totali comunque molti non vengono neanche iniziati ad esplorare ok e quindi otteniamo questo tipo di logica poi ci sarebbe da montarci sopra un'altra parte che però non ve la faccio ve la dico solo e basta ve la accenno che è la seguente ah notate che abbiamo potato 42 su 65 nodi comunque con questo sistema perché poi non si vedeva ma ne abbiamo potati parecchi non è detto che io debba andare in DFS se vedo che una certa sotto ramo è comunque migliore di un altro potrei esplorare prima quello perché ottengo subito una soluzione più bassa e l'upper bound mi si abbassa e quindi poto ancora di più quindi invece di fare una DFS posso selezionare metterli in ordine di miglioramento e scegliere quelli in ordine è possibile cercare dei lower bound più stretti quelli che avevo fatto qua sono quelli che riesco a spiegarvi ci sono quelli che hanno studiati per esempio questo articolo qua che parla di lower bound su traveling salesman problem e tenuto conto del minimum span trivi ricordate che c'è una relazione fra i due problemi se siete interessati qui dentro trovate ulteriore informazione sui algoritmi di approssimazione e questo è un libro intero ok se siete proprio messi male ci sono 600 pagine solo sul commesso viaggiatore ok quindi capite che quando mi guardate con la faccia come per dire ma quanto va avanti ancora questo parlare di sta cosa sappiate che potrei farlo quanto voglio se proprio se mi viene un attimo di sadismo e vi ammazzo tutti diciamo finisco e dopo facciamo la merettatissima pausa facendovi vedere la storia di tutto questo cioè sembra che insomma ne parliamo continuo a parlare sul commesso viaggiatore a me piace molto questa pagina perché sostanzialmente è l'introduzione del problema da parte di Fulkerson che conoscete da Johnson che conoscete Danzinger non lo conoscete ma ovviamente è un personaggio importante nel 1954 per me quello che deve essere stato il posto migliore per lavorare di sempre perché questa Rand Corporation lavorava per il governo degli Stati Uniti per risolvere problemi di questo tipo e anche reti di flusso è stato sviluppato alla Rand Corporation ok e stanno a Santa Monica e si occupano di algoritmi cosa c'è di più bello nella vita non lo so e c'erano tutti i nomi migliori in assoluto del tempo perché tutti gli algoritmi che studiamo era tutta gente che più o meno stava lì e vabbè ci sono alcune note e questo era nell'articolo originale il tour ottimale di 49 città 48 città capitali degli stati continentali e l'altra volta avevo detto escludendo Alaska e Hawaii ma poi sono andato a leggere meglio perché Alaska e Hawaii non facevano parte degli Stati Uniti al tempo diciamo ok quindi non erano considerati stati di questo tipo e e poi ci sono stati vedete Procter & Gamble ha fatto una competizione su 33 città ok e dovevi risolverla a mano e qua siamo nel 62 nel 77 sei riuscito a risolvere un tour di 120 città perfettamente non questa è la soluzione ottima di 120 città nella Germania dell'Ovest poi gli switch della TNT 532 e questa è la soluzione migliore questo per dirvi i i costi che hanno queste cose vedete questo sono una disposizione su una scheda elettronica credo e stessa cosa anche Logical Ray Application eccetera eccetera tutte le città con non più di 500 persone ma guardate i numeri io non sono abituato a lavorare con 13 mila nodi io lavoro con le cose che faccio con Christian Consonni con miliardi di nodi potenzialmente 13 mila sembra un giochino però per questo tipo di problemi è un problema enorme ok e arriviamo a 15 mila nel 2001 e 24 mila nel 2004 poi non ho niente di di aggiornato ma per dirvi che stiamo parlando di numeri piccoli 24 mila non è un numero grande perfetto us sorti peinté alle see